Digimonia Rapporto e benvenuti in questo nuovo video Oggi raga volevo parlarvi assolutamente di Amnesia Rebirth che ho recuperato i live su Twitch in questi giorni se ancora non mi segui su Twitch vallo a fare c'è il link in descrizione su su che faccio le live da lunedì al venerdì tutti i pomeriggi perché ci tenevo tantissimo essendo comunque una saga che io adoro da quando è uscito il primo ovviamente per chi conosce appunto la saga sa benissimo che questo non è un gioco recente ma io sono riuscita a recuperarlo solo adesso perché l'ho trovato comunque in sconto perché nella realtà dei fatti non è che mi convinceva è anche vero che non è che mi ero informata tantissimo a riguardo però a vedere le immagini dello sviluppo e delle persone che lo condividevano non è che mi ispirava in realtà per prenderlo a prezzo pieno infatti sono qui per parlarne con voi se consigliarvelo o meno non prendete questo video come recensione come dico sempre io non faccio recensioni è più un consiglio da amica non me la sento sinceramente di metto tra le recensioni perché credo di non esserne veramente capace cioè no non fanno per me farle recensioni faccio schifo ma innanzitutto Amnesia Rebirth è un survival horror quindi vi deve assolutamente piacere il genere è stato sviluppato e pubblicato da Frictional Games che sono gli stessi autori di Soma di Amnesia The Dark Descent e Amnesia Machine 4 Pig ed è uscito il 20 ottobre 2020 quindi è uscito parecchio parecchio tempo fa è molto collegato comunque con i primi capitoli soprattutto con il primo ci sono tantissimi riferimenti e spiega tantissimo della lore di The Dark Descent quindi prima di giocare Amnesia Rebirth io vi consiglierei e quasi obbligherei a giocare Amnesia The Dark Descent e Amnesia Machine 4 Pig infatti il mio errore è stato proprio quello di non aver finito Amnesia Machine 4 Pig e quindi potevo giusto capire i collegamenti stretti che c'erano appunto con il primo capitolo che ho amato alla follia ed è tra i miei videogiochi preferiti di sempre tra l'altro Amnesia era conosciuto appunto nel 2010 per essere stato il gioco che ha rivoluzionato il genere survival horror e qui infatti mi tocca dire qualcosa di questo capitolo perché sì, all'effettivo è un survival horror saremmo noi che dovremmo comunque sopravvivere scappare dai vari mostri che ci daranno la caccia però per come hanno fatto in Resident Evil 3 Remake anche qui i mostri saranno purtroppo scriptati in certe zone nel senso che per tutto il nostro viaggio perlomeno io portandoli in live li ho incontrati veramente poche volte nel primo se tutta la zona e a parte giusto l'altro perché era quello del tutorial in tutto il resto i mostri c'erano a prescindere quindi non è che in qualsiasi zona eri salvo a parte l'atrio no, cioè tu li beccavi comunque qui invece in certe zone proprio non ci sono è palese che non ci siano perché giri, giri, giri fai casino e non arrivano e quindi questo purtroppo è una nota a sfavore che mi tocca dargli perché io mi aspettavo che comunque ti mettesse pressione appunto come i primi e invece no qui hanno deciso di cambiare rotta d'altra parte però ho apprezzato la diversità dei mostri che sì c'era anche nei precedenti capitoli però devo dire che qui cambia proprio anche il modo in cui verranno ad attaccarci cambia proprio anche di molto l'aspetto fisico perché sì anche nei primi comunque cambiavano perché cambiavano però alla fin fine il metodo era sempre lo stesso ti vedevano, ti arrivavano e ti attaccavano per quanto riguarda qui invece i diversi mostri hanno diversi modi per diciamo approcciarti ed è una cosa che ho apprezzato sicuramente il fatto che alcuni di essi ti parlino ti mette meno ansia te lo rende come un più amichevole diciamo infatti cioè sì l'ho apprezzato perché a livello di lore ci stava non faccio spoiler non voglio assolutamente fare spoiler anche se tanto comunque è già uscito tutti avranno visto il gameplay però ci tengo comunque a non fare spoiler per chi magari non lo ha visto però non lo so mi ha fatto storcere il naso perché appunto se il mostro non parla non sai dov'è eccetera tu hai più ansia parlando lui comunque si rivela senti la voce quindi sai bene o male dov'è mi sto riferendo soprattutto a un punto in particolare del gioco che è più o meno metà gioco si vede moltissimo comunque l'impronta dei precedenti capitoli perché comunque le meccaniche sono sempre le stesse le porte si aprono stesso modo potremmo lanciare oggetti certi oggetti non si apriranno se non sposteremo gli oggetti sopra quindi sinceramente questa era una delle meccaniche che mi piaceva di più dei primi capitoli e sono contenta che l'abbiano mantenuta questo gioco non è assente di bug e glitch ce ne sono pochissimi ma come vi dico sempre in questo genere di video qualsiasi gioco ha dei bug qualsiasi gioco ha dei glitch purtroppo a me ne è successo uno grossino perché mi si era corrotto il salvataggio chi era in live appunto ha potuto vederlo non riuscivo andare avanti nella storia si doveva azionare un meccanismo chiave per poter continuare appunto l'avventura però purtroppo così non succedeva e non riuscivamo a capire come fare ci sono stati tipo 20 minuti a girare per capire e ho dovuto guardare anche un tutorial perché non riuscivo a capire cosa dovevo fare e quello che avevo immaginato non succedeva ho dovuto ricaricare quindi mi raccomando salvate c'è il salvataggio anche manuale oltre a quello automatico così da non combere in questi problemi anche perché se un salvataggio dopo ti deve far ricominciare tutto il gioco non deve essere piacevole inoltre avremo tre finali diversi come appunto era per The Dark Descent è una cosa che io adoro tantissimo soprattutto in un survival horror anche perché ti permette uno di rigiocarlo più volte o come fanno molti mettere il salvataggio alla fine e poi ricaricare la partita ma allo stesso tempo di scoprire comunque le varie alternative della storia perché comunque a seconda del finale che noi andremo a fare scopriremo cose che nelle altre appunto non sarà possibile infatti in uno addirittura ci sarà una scena segreta che comunque non vi dirò io ve lo straconsiglio questo gioco perché comunque per gli amanti del survival horror deve essere assolutamente giocato soprattutto tutta la saga non solo questo capitolo d'altro canto però è meno ansioso rispetto ai primi quindi magari chi non riesce a giocare un survival horror parecchio forte come alla resident evil 7 questo qui essendo più leggero magari gli riesce molto più semplice quando io ho visto l'annuncio di questo terzo capitolo dopo ben sette anni da machine for pig ero veramente entusiasta e provandoli ed effettivamente ne sono rimasta veramente soddisfatta io l'ho potuto acquistare su instant gaming e ho giocato alla versione pc però si può trovare su qualsiasi altra piattaforma e tra l'altro al momento costa veramente veramente poco quindi dateli assolutamente una chance purtroppo amnesia non è un gioco parecchio conosciuto anzi in realtà molti lo hanno recuperato quando è stato dato gratuitamente le dark descent non mi ricordo adesso su quale piattaforma e quindi molti hanno potuto recuperarlo da lì però per gli amanti del survival horror questa saga è da giocare anche perché comunque uscirà il quarto capitolo amnesia the bunker che io sto aspettando tantissimo e uscirà a marzo in sintesi ve lo consiglio questo gioco sì è un classico survival horror non ha meccaniche innovative non ha chissà quale aggiunta rispetto ai vecchi capitoli ma comunque fa il suo lavoro purtroppo per quelle zone dove sono scriptati quei pochi mostri perché all'effettivo sono pochi e mi è dispiaciuto tantissimo per tutto il resto soprattutto per la lore e per i vari finali secondo me vale veramente veramente la pena al momento si può trovare su playstation Xbox e PC per un costo di 30 euro ma per chi appunto possiede il PC come me lo può recuperare tranquillamente da instant gaming pagandolo meno e tra l'altro c'ho il link in bio di Instagram per instant usatelo usatelo che mi aiuterete tantissimo per chi fosse interessato alla durata totale del gioco quindi ore di gioco io vi direi che va dalle 6 alle 10 ore ovviamente dipende tutto da come voi vi approcciate al titolo se lo lasciate e se andate abbastanza convinti e non avete paura il 6 ore si riesce tranquillamente a finire se invece volete scoprire qualsiasi mistero giocate appunto con la paura addosso quindi avete paura di suoni rumori eccetera 10 ore sono più che sufficienti quindi vi direi che la durata stimata è dalle 6 alle 10 ore appunto dipende tutto come lo giocate voi un altro punto a sfavore che mi tocca dargli sinceramente anzi non me lo aspettavo non avremo più posti dove nasconderci questa è una cosa che mi ha fatto storcere parecchio il naso perché era una parte portante comunque dei vecchi capitoli dovevi proprio nascondere non ti dovevi far vedere qui invece gli armadi non ci saranno ci dovremo nascondere dietro delle rocce ci dovremo accovacciare per terra sperando che non ci passi davanti quindi è un po' a sto punto togliere totalmente la meccanica del nascondersi non mettere appunto l'accovacciamento totale che tanto non serve a niente perché se non hai punti dove ti puoi incastrare e nasconderti se poi ti passa davanti e c'hai solo la roccia di fianco non serve assolutamente a niente casualmente lui ti passa davanti proprio nella palletta libera hai finito è un'altra meccanica che ho apprezzato ma allo stesso tempo no è che si anche qui avremo la salute mentale della nostra protagonista e anche qui se noi guarderemo i mostri guarderemo i corpi guarderemo qualsiasi cosa le darà fastidio non avremo solo la luce per calmarci ma avremo anche il bambino boh l'ho trovato un po' una forfatura nella realtà dei fatti effettivamente una madre credo si senterà assicurata a sentire il proprio bambino però con tutto quello che le succede nella storia del gioco quel bambino purtroppo non dovrebbe neanche essere più lì e quindi non ha senso sta meccanica non lo so non mi ha convinto al 100% anzi nella realtà dei fatti il bambino scalcerà in certi punti dove sarà anche quasi impossibile interagire perché stai facendo cose quindi cioè il mostro scappa il bambino scalcia interagisci col bambino cioè no non mi è piaciuta questa cosa se non l'avete fatto appunto come vi ho già detto recuperate l'intera saga prima di marzo perché uscirà il 4 perché è assolutamente da giocare ci sono tantissimi collegamenti tra di loro ed è la cosa più bella secondo me scoprire le cose che nei precedenti capitoli non vengono spiegate ma qui si è veramente una cosa che io adoro tantissimo e che penso adoriate anche voi e soprattutto provate a fare tutti i finali in tutti i giochi e soprattutto in questo perché raga quando si presentano più finali sono da fare tutti io spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere con un commento qui sotto voi cosa ne pensate della saga di Amnesia se vi piace non vi piace cosa ne pensate di Amnesia Rebirth se non l'avete neanche mai sentito nominare perché raga purtroppo è un indie quindi non è stato calcolato da quasi nessuno ed è veramente un peccato perché appunto meritano tantissimo Forza Machine 4 Pig è quello più mediocre tra tutti però è bellino anche quello il mio preferito comunque rimane tra i tre The Dark Descent ovviamente perché appunto ha rivoluzionato il genere survival horror e se non lo avete fatto appunto andateli subito a recuperare e fatemelo sapere con un commento fatemi sapere tutto dove pensate così facciamo 4 chiacchiere su 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 io come sempre vi aspetto in live ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 5 e 5 e mezza comunque verso fino alle 9 9 e mezza a secondo della giornata e dei miei impegni vi aspetto qui sul canale per nuovi video nuovi vlog perché il 21 ci sarà il community day di Lervitar e comunque ci sarà anche Novegro e vi aspetto su Instagram dove vi pubblico praticamente momenti della mia giornata vi faccio vedere il mio enorme disagio e vi mostro la mia collezione e con questo vi auguro una buona giornata un buon gaming un buon weekend e Digimoney passo e chiudo ciao ciao Grazie a tutti.